Buon pomeriggio dalla redazione del Tg della mobilità. Cantieri estivi di manutenzione stradale a Corso Francia si lavora per il rinnovo della segnaletica e dunque sino al 26 agosto, solo in orario notturno, gli interventi riguarderanno il tratto tra via Valdagno e la fine del ponte Flaminio nei due sensi di marcia. Durante l'orario dei lavori è in vigore il limite di velocità di 30 km orari e la riduzione della carreggiata. Le altre notizie chiusura serale sino al prossimo 23 agosto in via dei Fori Imperiali e in via dei Cerchi per lasciare spazio a una rassegna di spettacoli gratuiti dal titolo Cerchi e Fori. Dalle 20 a mezzanotte le due strade diventano isole pedonali, in particolare via dei Cerchi tra via di San Gregorio e via di San Teodoro. Dalle 18 e 30 su questo stesso tratto scattano i divieti di sosta. Deviate comunque dalle 20 su percorsi alternativi le linee bus 51, 75 e 85, 87 e 117, 118 e 628. Per il momento è tutto, un saluto dal Tg della Mobilità.